bella raga bentornati in questo nuovo video dedicato a voi abbonati oggi faremo il rebriter ragazzi blu o arancione a seconda di come volete fare il rebriter vi lascerò la tabella ragazzi che faccio passare anche in questo momento così se volete la potete screenshotare oppure metterò direttamente ragazzi un post nei gruppi ora vediamo comunque requisiti rebriter giallo link in descrizione per come ottenerlo serve colpo al casino ragazzi da fare facilissimo veloce e per fare rebriter colorati dovremo mettere delle maschere colorate queste quale business ok ogni mascherina porterà un colore diverso quindi io userò questa gialla ragazzi per portare il rebriter arancione quindi a questo punto apriamo il menu interazione andiamo sullo stile andiamo su paracadute ragazzi e andremo a scegliere il paracadute classico lo indossiamo ragazzi e appena lo indossiamo chiudiamo il menu interazione controlliamo sempre in basso a destra il cerchietto del caricamento raga e a questo punto possiamo bloccare la console c1 quindi possiamo andare a fare il clock con net cut ragazzi a questo punto una volta che siamo sicuri che la console c1 è frizzata ragazzi quindi abbiamo il bollino rosso ci stiamo fermi in questa posizione lo mettiamo a girare in modo da non crashare ragazzi è fondamentale e andiamo ad avviare c2 a questo punto su c2 ci arriverà ragazzi un messaggio dicendo che stiamo già giocando da un'altra console noi andremo ad accettarlo ora non si vede ragazzi perché non registravo con la game capture quindi farò vedere magari uno screen una foto fatta col telefono a questo punto dopo un po ci darà anche una seconda di chiamiamola così allerta sempre di xbox e noi raga dovremmo caricare sempre gli ultimi dati salvati è fondamentale caricate sempre gli ultimi dati salvati a questo punto una volta che siamo spawnati online raga con c2 cosa facciamo apriamo il nostro menu interazione andiamo su stile andiamo su maschere ci indossiamo la maschera la business raga questa gialla e a questo punto chiudiamo il menu interazione aspettiamo il cerchietto di salvataggio in bassa a destra e chiudiamo il gioco raga a questo punto dovremmo tornare su c1 quindi apriamo il nostro menu interazione raga e andiamo a selezionarci l'outfit che stiamo usando in modo tale da togliere solo il paracadute e che in bassa a destra faccia il caricamento a questo punto possiamo sfrizzare netcat ragazzi aspettiamo 20 o 30 secondi per vedere se crashiamo in automatico e se non crashiamo in automatico raga chiudiamo il gioco noi quindi ce ne andiamo di corsa di corsa online facciamo un riavvio della console raga è una volta che saremo online avremo il rebriter arancione oppure quello blu se volete fare quello blu ragazzi lasciate un like se vi è piaciuto il video e alla prossima sbada bam raga